Questo è un orologio e come tutti gli smartphone su cui poi vi daremo alcuni numeri che probabilmente ha le sue app, ha le sue caratteristiche, condizione di ricevere un segnale di richiesta di uno di quei reati con il magistrato che segue le indagini, quindi a seguito della presentazione a cui è stato dato in uso uno di questi apparecchi e immediatamente è a rischio le vittime, cioè le persone che hanno denunciato. In particolare allarme sociali che necessitano una sensibilità operativa, una sensibilità anche nell'approccio con la vittima per cercare di carimetrare. Un dispositivo di allarme da polso che prende la forma di un normale smartwatch. Su questo è il soccorso richiesto. E quest'anno si sta stabilizzando sui 4.000. Sono leggermente aumentati dopo la riforma roccella, sono leggermente aumentati i numeri e siamo ormai stabilizzati sui 4.000 all'anno. Ed ecco. E pertanto saranno loro ad affidare, selezionando... Figura del referente che segue la vittima comunque per mano, quindi il dispositivo elettronico non va a sostituire l'essere umano. Il responsabile del sistema operativo che va continuamente a fare il check e l'operatore centrale operativo. Quindi c'è un ombrello abbastanza... A parte la barna. Grazie. 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 Grazie.